Senti, è stata una grande partita, possiamo dirlo? Assolutamente sì. Allora, potevamo chiuderla prima sicuramente con i tre punti casalinghi così, però l'abbiamo portata fino al tie-break, l'abbiamo spuntata. Ed è una grande soddisfazione perché, come si diceva con cortesia, insomma, il Verona Volle con la Lube non aveva mai fatto risultato. Eh, adesso me l'hai detto tu, quindi ancora meglio, quindi serata fantastica, pubblico indimenticabile e poi una partita così si prova poche volte. E adesso testa la prossima con la consapevolezza che, insomma, si è tornati a macinare punti. Assolutamente, adesso cominciamo a oliare l'ingranaggio che stiamo portando avanti da mesi, abbiamo avuto un brutto periodo ma adesso stiamo risalendo pian piano. E oggi dal primo minuto Magalini? Sì, è veramente un onore giocare con questo palazzetto e giocare al primo minuto, è veramente una sensazione fantastica. Grazie.